Il Comune di Fano aumenta i fondi a sostegno degli istituti scolastici statali per l'anno scolastico 2020-2021. Come ogni anno, le risorse sono state suddivise per le funzioni miste, in base al numero degli addetti, per le attività integrative, a seconda del numero degli iscritti, per la piccola manutenzione e le spese di funzionamento, oltre al numero totale degli studenti. Questo è un anno particolare, un anno complesso, difficile, e quello segnato dalla riorganizzazione delle scuole per affrontare l'emergenza sanitaria. Quindi abbiamo ritenuto come Comune di Fano indispensabile aumentare queste risorse, e rispetto alle 40.000 euro che erano previsti nel bilancio 2020, abbiamo aumentato con l'ultimo Consiglio Comunale a 110.000, quindi con 70.000 euro in più per destinare le direzioni didattiche e gli istituti comprensivi, proprio per poter dare gli strumenti ai dirigenti scolastici per affrontare e risolvere le difficoltà organizzative, ma anche finanziarie, che la pandemia ha portato con sé, ovviamente in questo anno così particolare. Per quanto riguarda la situazione nelle classi degli istituti fanesi, l'assessore Mascarin tiene a sottolineare che tutti gli accorgimenti del caso contro il Covid stanno sostanzialmente funzionando. La situazione in questo momento, ad oggi, abbiamo sette classi, tra scuola media, scuola primaria, scuola dell'infanzia, nido, che sono state poste in quarantena. Ed è un dato medio che tutto sommato si sta sensibilmente abbassando nell'ultimo mese. Complessivamente, comunque, considerando che abbiamo oltre 200 classi nella nostra città, è evidente che questo è un numero comunque che ci conforta, perché vuol dire che in questo momento stiamo riuscendo a governare la situazione e a tenere sotto controllo la, diciamo così, diffusione del virus. In questo senso, le risorse che stiamo investendo sono risorse che effettivamente stanno portando dei buoni risultati in termini di prevenzione e in termini anche di gestione complessiva di questa emergenza sanitaria.